Eccoci qua, buonasera, il telegiornale partirà con le parole del Presidente italiano della Banca Centrale Europea, Mario Draghi, per una volta chiaramente dure nei confronti del nostro governo. Praticamente ha detto che non ci si aspetti che l'Italia sia soccorsa della Banca Centrale Europea. Ha detto che l'attuale situazione, lo spread, fa male alle banche, innanzitutto al credito italiano, che vuol dire far male al Paese, al sistema Paese. Però Draghi ha anche detto che è una mia impressione, ma secondo me si troverà un accordo. Ma le parole del Presidente della Banca Centrale Europea hanno avuto delle reazioni politiche, tra cui la più forte è quella dei deputati del Movimento 5 Stelle, che hanno detto, duole dirlo, ma anche il Presidente della BCE si allinea agli attacchi all'Italia, non al governo italiano, all'Italia. E argomenta che questa nota dei deputati dei 5 Stelle è che quando lo spread italiano era 500 bastarono poche parole di Draghi, faremo tutto quello che è necessario, ma in realtà non era soltanto per la situazione in Italia, per placare tutto e far scendere lo spread a quota 100. Ma al di là di questo, e considerato anche il fatto che oggi la borsa ha rimbalzato e che lo spread è un pochino sceso, restando comunque a quota 309, vedremo come poi l'attenzione ancora anche su quella terribile vicenda di Cronaca che ci porta a Roma, quartiere popolare di San Lorenzo, l'uccisione di quella minore da parte, secondo le ultime risultanze della magistratura, di un gruppo di spacciatori di droga. Due senegalesi e un piano sono stati fermati, ma le indagini continuano e ci sono ronde spontanee nel quartiere e una fiaccolata in serata degli abitanti che reclamano il ritorno alla sicurezza di un quartiere che appunto affonda le sue radici nella storia della Roma moderna. Ma ci sono altri fatti, l'iniziativa del procuratore Spataro a Torino nei confronti della Francia con un ordine di ispezione internazionale per una serie di sconfinamenti armati da parte di uomini delle forze speciali francesi nella zona del Monginevro e della zona vicina peraltro a Clavier dove ci sono stati gli ultimi fatti. Ma ci sono anche altre storie da raccontare, compresa quella della condanna dell'Italia dalla parte della Corte Europea di Giustizia per aver continuato a utilizzare il regime di carcere duro, il 41 bis, nei confronti dell'ormai morente boss della mafia Bernardo Provenzano nell'anno 2016, due anni fa. Una condanna per un eccesso inumano di detenzione secondo quanto hanno stabilito i giudici. negli Stati Uniti continua lo stilicidio di bombe carta rudimentali, ma certo un avvertimento pericoloso inviati a tutti gli esponenti di maggiore rilievo dell'opposizione democratica contro Trump, fino a colui che è stato il più duro nell'attaccarlo da un podio dello spettacolo, ovvero l'attore Robert De Niro. E c'è anche altro, come vedremo tra poco dai titoli. Il presidente della Banca Centrale Europea Draghi definisce l'Italia elemento di incertezza per lo scenario economico europeo come la Brexit e la guerra commerciale e avverte la Banca Centrale non finanzia il deficit. Parla anche dello spread, per ridurlo bisogna abbassare i toni. I BTP sono nei portafogli delle banche e avranno impatto su capitale, risparmiatori, imprese. Ma poi Draghi si dice fiducioso sulla possibilità di un accordo con la Commissione europea. Dura la risposta dei 5 Stelle e con quelle parole Draghi obiettivamente attacca l'Italia. L'analisi delle dichiarazioni del presidente della BCE nel commento degli economisti Francesco Daveri e Antonio Maria Rinaldi al nostro Tg. In una giornata in cui peraltro c'è stato a Piazza Affari un rimbalzo positivo della borsa che ha chiuso a più 1,79% e con un calo dello spread che comunque resta a quota 309. Fermate tre persone per la morte della giovane, della minore uccisa come sappiamo nel quartiere di San Lorenzo. Si tratta di due senegalesi, un nigeriano tutti con permesso di soggiorno scaduto o revocato e tutti con precedenti per spaccio. Sono accusati di violenza sessuale di gruppo, cessione di droga, omicidio volontario. Si cerca almeno un quarto uomo. Un testimone avrebbe visto la ragazza star male all'interno dello stabile occupato nel quartiere. Attorno a lei 7-8 persone. Voglio giustizia, quanto è successo a mia figlia non deve più accadere, ha detto la madre. Sui casi di sconfinamento della gendarmerie francese la procura di Torino ha emesso un ordine di investigazione europeo che riguarda in particolare un episodio del 2 agosto quando agenti francesi armati hanno perquisito due italiani al Moncinevo. Il procuratore di Torino Spataro indaga contro ignoti per i reati di porto illegale di armi da guerra e minaccia aggravata dall'uso delle armi in danno di cittadini italiani. La Corte europea dei diritti umani ha condannato l'Italia perché decise di continuare a applicare il regime duro carcerario del cosiddetto 41 bis a Bernardo Provenzano nel marzo del 2016 quando ormai il boss mafioso era in agonia fino alla morte il 13 luglio dello stesso anno. Il nostro Ministero della Giustizia avrebbe violato il diritto di Provenzano a non essere sottoposto a trattamenti inumani e degradanti, dice la sentenza. Buonasera, il fatto del giorno indubbiamente è costituito dalle parole pronunciate dal Presidente italiano della Banca Centrale Europea Mario Draghi nella conferenza stampa successiva alla riunione mensile del board della Banca Centrale Europea stessa. Sono parole che riguardano direttamente l'Italia e non sono equivocabili. L'entrata, il passo, lo sfondo, i colori e anche la cravatta sono simili se non uguali a tante altre volte ma le parole no. Stavolta le parole di Mario Draghi sono pietre, il senso è moderate i toni e abbassate lo spread perché lo spread fa danni e aggiunge un inciso forte non mettete in discussione l'architettura dell'euro. Se non lo farete lo spread scenderà, spiega, il che significa che ora secondo Draghi non si va esattamente nel solco. È una conferenza stampa scolpita Italia, nel senso che d'Italia si parla tanto solo di lei praticamente. Domande, una valanga, quel che in genere è palcoscenico per la routine sentita fino allo spasimo, tassi fermi, quantità tv e stop da gennaio, diventa un'inevitabile occasione per rispondere ai dubbi sulle tensioni tra Roma e Bruxelles. Prendetela per quello che è, una percezione personale, resto fiducioso, che un accordo sarà trovato, dice però il Presidente della Banca Centrale Europea che usa anche il termine dialogo rivolgendosi alla Commissione. Obiettivamente un gran bel colpo al cerchio, versione Colomba, solo che poi ce ne sono di colpi anche per la botte, versione Falco, quantomeno da preoccupato custode della moneta unica. La Banca Centrale Europea non finanzia il deficit, taglia Corto Draghi, non piega le proprie politiche alle esigenze dell'Italia. Esiste l'OMT, ricorda il banchiere centrale d'Europa. OMT che semplicemente la stampa definisce come piano antispread, come ancora più semplicemente ma dolorosamente tutti hanno visto l'applicazione in Grecia. L'aumento del differenziale tra i BTP italiani e i Bund tedeschi pesa sulle banche, ricorda Draghi. Non ho la palla di cristallo per dire se sarà 300 o 400, ma certamente i BTP sono nei portafogli delle banche e se si svalutano questo avrà un impatto sul livello del capitale bancario, tradotto aumenti di capitale, richiesti agli azionisti, piccoli, piccolissimi o grandi, magari allo Stato comunque soldi. L'Italia è tra i fattori di incertezza, come la Brexit, dichiara il Presidente della Banca Centrale. Gli chiedono, c'è il rischio di un contagio? Forse qualche ricaduta c'è, ma, aggiunge lievemente conciliante, è limitata. Queste le parole di Draghi riassunte dal nostro Marco Fratini. Sono parole che pesano, spero sia stato chiaro, perché segnano un confine che per l'Italia dovrebbe essere invalicabile, ma che l'Italia di fatto ha già oltrepassato. Le reazioni nel nostro Paese vanno dal cauto all'acceso. Se Di Maio parla, come stiamo per sentire, in maniera più felpata, l'Assemblea dei Deputati dello stesso Movimento 5 Stelle accusa di fatto anche Draghi di aver attaccato l'Italia e di aver agito ben diversamente in passato. Vedo che dalla BCE arrivano strali sulla questione del pericolo dell'economia italiana per quanto riguarda lo spread. Il governatore Draghi sa che il problema dello spread non è legato alla manovra economica, ma è legato alla paura dei mercati che questo Paese possa uscire dall'euro. Luigi Di Maio ribadisce a lina del governo, dialogo sì, ma nessun cedimento su numeri e contenuti della manovra. Ancora più dura una nota del Movimento 5 Stelle, non vogliamo uscire dall'euro, Draghi smetta di attaccare l'Italia. Ricordiamo al governatore che quando nel 2012 lo spread era oltre i 500 punti, fu sufficiente una sua dichiarazione per farlo scendere fin sotto quota 100. A dimostrazione del fatto che se la Banca Centrale adempia i propri doveri, il pericolo spread viene meno. Le parole del governatore della BCE non sembrano intaccare le certezze della maggioranza. La risposta a Draghi di Matteo Salvini lo conferma «anch'io sono per un accordo, ma sulle nostre posizioni la manovra non cambia, non potete farmi ogni giorno la stessa domanda». Decisamente critico con l'uomo di Francoforte, il Ministro e gli affari europei. Calmerare lo spread e tenerlo sotto controllo è compito della Banca Centrale, attacca Paolo Savona, che preannuncia. Non c'è alcun dubbio che il governo rimanderà alla manovra tale e quale a Bruxelles, nonostante la bocciatura. Ma la linea della fermezza deve fare i conti con la realtà dei mercati. L'allarme del Ministro dell'Economia Tria, che il sistema bancario non può reggere a lungo lo spread a 320 punti, ha lasciato il segno anche se i protagonisti provano a minimizzare. Dobbiamo lavorare perché i mercati finanziari e quindi gli investitori abbiano fiducia in noi. Per questo bisogna fare sistema, dice il Premier Conte all'Assemblea dei Comuni italiani. Se segue l'economia reale lo spread scenderà inevitabilmente, garantisce Salvini. Mentre Di Maio rassicura sullo stato di salute delle banche. Siamo molto attenti e vigili alla loro situazione. Come governo abbiamo contatti diretti ogni giorno con vari manager per riuscire a monitorare la situazione in tempo reale. Decisamente diversa la lettura di Renato Brunetta, Forza Italia. Con lo spread ai livelli attuali ci sono istituti di credito a rischio, di capitalizzazione. L'unica possibilità è quella dell'ingresso dei grandi investitori esteri, con la conseguenza che l'Italia perderà il controllo delle sue banche. Il segretario P.D. Martina chiede a Conte e Tria di cambiare la manovra. Sono allibito per il gioco propagandistico che i due vicepremier stanno scaricando sulla pelle degli italiani. Si fermino. Quando la materia principale è quella dell'economia molti si schierano a prescindere e spesso magari la sostanza sfugge, ma fideisticamente uno dice ha ragione quello, ha ragione quell'altro. Noi non siamo così sicuri di noi stessi e quindi di fronte all'uscita così importante del governatore della Banca europea abbiamo chiesto il parere di due economisti. Nel suo discorso di oggi il presidente della BCE Mario Draghi ha fatto un auspicio e dato un'indicazione. L'auspicio è che prevalga il dialogo tra la Commissione europea e il governo italiano, che fino a questo momento è mancato, e che si possa trovare un accordo che porti a una revisione della legge di bilancio, così come è stata presentata. L'indicazione riguarda il fatto che in caso di ulteriore peggioramento della situazione, cioè con un aumento ulteriore dello spread, non ci sono altri strumenti alternativi che ricorrere al cosiddetto OMT, che è un programma mai usato, che però prevede l'acquisto di titoli pubblici da parte della BCE, ma solo in cambio dell'imposizione di condizioni ben precise da parte della Commissione europea sui conti pubblici dell'Italia. Draghi, al margine del board che ha lasciato invariati i tassi, ha detto che si auspica che le parti in causa, cioè l'Unione europea e l'Italia, giungano a un accordo e ha dimostrato di fatto per l'ennesima volta di essere l'unica persona responsabile nell'ambito delle istituzioni europee, cosa che purtroppo non si può dire nei confronti di altri commissari, in particolare di Juncker, che proprio oggi ha cercato un po' l'ilarità nei confronti dell'Italia a margine di una conferenza stampa, con le risatine da parte dei giornalisti esteri. Fra l'altro ha detto che 30 miliardi sono stati concessi all'Italia negli ultimi tre anni. Vorrei ricordare al signor Juncker come mai, ad esempio, non è in calendario il fatto che i regolamenti previsti dal six pack in relazione al sconfinamento del 6% sui surplus, sappiamo 2006 in maniera piuttosto continuativa e che riguarda centinaia o centinaia di miliardi la Commissione europea non prende nessun tipo di provvedimento. Ho sentito anche di una telefonata fra Juncker e la signora Merkel per quanto riguarda la manovra italiana, vorrei sapere se queste telefonate sono state fatte anche in relazione negli anni passati, quando ad esempio la Francia è arrivata al 7,2%, il Portogallo all'11,2%, la Spagna oltre il 6%, quindi vorrei soltanto dire una cosa sommessamente, evidentemente la Commissione europea in questo momento ha il ruolo di opposizione al governo italiano, visto che in Italia non c'è. Queste due opinioni, ma sentiamo la reazione dei mercati, anzi la mostriamo proprio, vedendo che la borsa oggi ha rimbalzato molto, è rimbalzata molto, ma del resto veniva da 6 sedute di fila e concluse con il segno meno, come vedete più 1,78% il guadagno di piazza affari. Per quanto riguarda lo spread è sceso sotto quota 320 e anche sotto quota 310, subito sotto quota 309. Questa è l'attuale situazione del differenziale tra i buoni del tesoro decennale italiani e i bunde tedeschi di analoga durata. Ma andiamo a vedere adesso un'altra vicenda che come ben sappiamo viene seguita con attenzione dall'opinione pubblica, perché è successo nel cuore di Roma, perché ancora una volta è costata la vita in maniera orrenda a una giovane, una minore peraltro italiana e perché tutto questo mette al cospetto della violenza sulle donne, della droga, dello spaccio della droga in maniera mortale e anche della presenza di irregolari che sono proprio soldati del traffico della droga extracomunitari nel nostro paese. La caccia all'uomo è ancora aperta. Per l'omicidio di Desiree Mariottini manca il quarto uomo, l'ultimo sospettato di aver fatto parte del branco che venerdì scorso prima ha drogato e poi ha stuprato a lungo per ore la sedicenne di cisterna di Latina. Stordita da un cocktail di sostanze, la ragazza è stata trovata morta così riavvolta frettolosamente tra i suoi vestiti. Meno di una settimana fa in uno stabile occupato in via dei Lucani, quartiere San Lorenzo di Roma. In queste ore negli uffici della Questura vengono sentite due persone. Sarebbero testimoni dei fatti uomini in grado di aiutare gli inquirenti a fermare la fuga del quarto componente del gruppo che avrebbe ucciso Desiree. Tre uomini sono stati fermati tra ieri notte e questa mattina. Sono due cittadini senegalesi di 43 e 26 anni e un nigeriano di 45, tutti con permessi di soggiorno scaduti o revocati, tutti con precedenti per spaccio di droga. Uno di loro è stato fermato in un edificio occupato a San Basilio, una vecchia fabbrica di smessa danni al primo posto nella lista degli edifici da sgomberare. Sono accusati di violenza sessuale di gruppo, cessione di droghe e omicidio volontario. Non hanno agito da soli. Fonti investigative parlano di un gruppo più numeroso. L'ultima persona ad aver visto in vita Desiree ha parlato di un branco di 7-8 persone attorno la ragazza nella notte dello stupro. La giovane da settimane, forse anche dai mesi, avrebbe frequentato quel palazzo occupato nel centro di Roma e trasformato in piazza di spaccio lontano da casa sua, cisterna di Latina. Da anni, dopo la separazione dei genitori, viveva con la nonna materna. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, la sera di venerdì 19 ottobre la ragazza era entrata in quello stabile. Poco dopo i suoi assassini le avrebbero somministrato un cocktail di droghe con l'intento di stordirla. Poi avrebbero abusato di lei in gruppo per lunghissime ore. Voglio giustizia. Quanto successo a mia figlia non deve più accadere, ha detto la madre della giovane. Stasera le strade, gli angoli bui di San Lorenzo, lì davanti all'area dismessa dove Desiree è stata uccisa, sono stati illuminati da una fiaccolata in testa, uno striscione dei commercianti del quartiere romano chiuso per lutto. C'è scritto quello slogan, resterà fisso sul muro dell'area dove la ragazza è morta. Andiamo adesso a un'altra vicenda che richiama un'altra disputa, quella tra Italia e Francia anche come si sa sul chiusura o meno al passaggio dei migranti. È successo tante volte nei giorni scorsi a Clavier soprattutto che ci fossero elementi a suffragio di questa ruggine tra Roma e Parigi. Ci sono stati anche passi diplomatici e proteste ufficiali, documenti esibiti a riprova dell'indignazione italiana. Questa volta non c'è Salvini, non c'è l'ambasciatore, non c'è Macron con il suo governo. Questa volta a muovere è la magistratura, il procuratore di Torino Armando Spataro. Sui casi di sconfinamento al Monginevro la procura di Torino va avanti e fa partire un ordine di investigazione europeo. L'episodio è quello che risale allo scorso 2 agosto quando quattro uomini dei reparti speciali della gendarmeria francese hanno perquisito, armati in mimetica, due cittadini italiani nei boschi di Gimò, Cesana torinese, pochi chilometri da Clavier. Più o meno lo stesso luogo in cui due settimane fa un'auto della gendarmeria ha scaricato due migranti provocando l'ira del ministro Salvini e costringendo la Francia alle scuse. Il mandato porta la firma del procuratore, capo di Torino Armando Spataro, il magistrato delle inchieste milanesi sul terrorismo fino ad Abu Omar. Sul cui tavolo da mesi finiscono le indagini per i presunti sconfinamenti francesi nel nostro paese. In quest'ultimo caso il fascicolo è contro i gnoti, il reato ipotizzato è porto illegale di armi da guerra in territorio italiano e minaccia aggravata dall'uso delle armi in danno di cittadini italiani. Un controllo anomalo, ha spiegato stamattina il magistrato. Su un ragazzo minorenne fermato mentre era in moto è un uomo di 50 anni che portava a spasso il cane. A entrambi gli agenti avrebbero intimato di non raccontare nulla e di questo episodio non sarebbe stata avvisata la polizia italiana. Spataro ancora una volta ha richiamato la procura francese alla collaborazione. In realtà da oltre sei mesi si attendono i nomi dei gendarmi che nel marzo scorso fecero irruzione nella stazione di polizia a Bardonecchia. Fu quello il primo ordine di investigazione europeo. Le indagini giudiziarie vanno in parallelo con la polemica politica che vede Francia e Italia fronteggiarsi a muso duro sulla questione migranti. Ieri la risposta della Francia alle accuse del nostro ministro dell'interno, riferite stavolta al video postato da Salvini sui social per denunciare respingimenti illegali in territorio italiano anche di minorenni. Sono pratiche abituali. Ha comunicato con una nota la prefettura di Ghappe. Non respingiamo minorenni. La questione migranti al confine è ben lontana da una soluzione. C'è una sentenza che riguarda l'Italia, è dura nei confronti dell'Italia e ci pone al cospetto della questione del trattamento dei detenuti in carcere, che deve essere sempre rispettoso, soprattutto nei momenti estremi della dignità dell'uomo, anche se quell'uomo è un boss della mafia. Detenzione sì, ma non in regime di 41 bis. Secondo la Corte Europea dei diritti dell'uomo, che per questo motivo ha condannato l'Italia, gli ultimi quattro mesi di vita del boss Bernardo Provenzano, morto il 13 luglio 2016 all'età di 86 anni, non sarebbero dovuti scorrere in regime di carcere duro. Per i giudici di Strasburgo, Provenzano, da lungo tempo malato e ormai incapace di intendere e di volere, doveva rimanere in carcere, ma senza le restrizioni previste dal regime carcerario duro introdotto contro i mafiosi. La permanenza del boss in prigione, scrivono nella decisione, non ha di per sé violato il suo diritto a non essere sottoposto a trattamenti inumani e degradanti. Così i giudici europei, pur condannando l'Italia, hanno respinto la richiesta dei legali del boss di un risarcimento per danni morali di 150.000 euro e del pagamento di 20.000 euro per coprire le spese legali. Per noi era importante l'affermazione del principio, ha spiegato il legale del boss, questa battaglia non aveva come fine l'ottenere risarcimenti monetari. Provenzano era stato condannato a 20 ergassoli come mandante delle più importanti e feroci stragi mafiose, dalla strage di Via Lelazio a Palermo nel 1969 fino agli attentati politici del 1993 a Roma, Firenze e Milano, passando per le stragi di Capaci e Via D'Amelio. Il regime di carcere duro applicato subito dopo il suo arresto, dopo 40 anni di latitanza nell'aprile 2006, fu intensificato dopo i ripetuti tentativi del boss di comunicare con l'esterno. Si arrivò all'isolamento con divieto di radio e televisione, ma nel 2011 la procura di Palermo diede il via libera alla revoca del 41 bis per motivi di salute. Il 9 aprile 2014, per l'aggravarsi delle sue condizioni, venne ricoverato all'ospedale San Paolo di Milano e il 24 settembre dell'anno successivo la Cassazione lo rimandò al 41 bis per meglio tutelare la sua salute, dato che in altro reparto sarebbe stato a rischio sopravvivenza. Rispettiamo la sentenza della Corte Europea, ha commentato il ministro della giustizia, Alfonso Bonafede, ma il 41 bis non si tocca. Meno diplomatica la reazione dei vice premier. Per Luigi Di Maio, a Strasburgo non sanno di cosa parlano. Per Matteo Salvini, la decisione di oggi è l'ennesima dimostrazione dell'inutilità di questo ennesimo baraccone europeo. Per Maria Falcone, sorella del giudice ucciso, la sentenza non mette in discussione il 41 bis, che è stato ed è uno strumento irrinunciabile nella lotta alla mafia. Si sta parlando dei mesi di agonia di un uomo, anche il peggiore degli uomini può comunque essere trattato secondo la legge e non secondo il modo più aspro che si conosce. So benissimo che tutti noi, ascoltando l'elenco delle cose terribili, fatte, ordinate, decise da Bernardo Provenzano, ha pensato la stessa cosa. A cosa serve la pietà? No, serve il diritto, la giustezza del diritto e il fatto che nelle carceri italiane questo deve essere osservato per tutti, assolutamente per tutti. Ma è facile dirlo, è duro concepirlo anche nel momento in cui si è presente quante persone hanno sofferto per le decisioni dei capi mafiosi. Andiamo all'estero dove la notizia più importante, a parte la vicenda delle bombe che continuano a essere indirizzate, ma ne parleremo subito dopo agli esponenti dell'opposizione democratica a Trump. La notizia più importante è il nuovo scalino di ammissioni da parte del regime dell'Arabia Saudita in merito all'uccisione del giornalista e del dissidente, anche Jalmal Kassoggi all'interno. Queste sono immagini di una delle ultime interviste fatte a Kassoggi in vita. Come si sa è scomparso perché ucciso all'interno della sede consolare saudita di Istanbul. Ebbene, il procuratore generale di Riad ha ammesso l'assassinio del giornalista, è stato un atto premeditato. A dare la notizia di questo è stata l'agenzia di stampa ufficiale del regime saudita. Intanto salgono a 38 le persone informate sui fatti convocate dal magistrato turco. Sono tutti dipendenti del consolato di Istanbul, l'ultimo luogo in cui, come sappiamo, è stato filmato in vita, Kassoggi, il 2 ottobre, prima di sparire. Dopo che le autorità di Riad avevano negato l'autorizzazione a svuotare completamente il pozzo nel giardino della sede diplomatica, la polizia sta esaminando, secondo quanto riporta la CNN turca, campioni di acqua per rilevare eventuali tracce dei resti del corpo di Jalmal Kassoggi. Ma come vi dicevo, l'altro fatto è quello stilicidio di bombe carta rudimentali, va detto, indirizzate via posta ai leader dell'opposizione democratica, alle figure principali dell'opposizione del Partito Democratico a Donald Trump. Sono dieci gli ordigni rudimentali arrivati agli oppositori del Presidente Trump, ma il numero, secondo la FBI, potrebbe essere destinato a salire. Gli ultimi due bersagli sono l'ex Vicepresidente Joe Biden, l'uomo che per la sua popolarità ancora oggi, secondo i sondaggi, se si presentasse come candidato dei democratici, alle prossime presidenziali avrebbe la maggiore probabilità di vittoria. E' Robert De Niro, il quale nel corso della campagna elettorale, dopo il videoscandalo nel quale Trump rivelava di prendere le donne per le parti intime, tanto se lo poteva permettere, visto che era una star, lo aveva chiamato cane, maiale e truffatore, mandandolo in diverse occasioni negli anni seguenti a quel paese. Prima di loro, due giorni fa, era toccato a George Soros, forse la persona più odiata dai nazionalisti e dai populisti di mezzo mondo. Ieri invece ai Clinton, agli Obama, all'ex ministro della giustizia Eric Cold era la deputata democratica di lungo corso, Maxine Waters, e dall'ex capo della CIA John Brennan, l'uomo che aveva definito immorale che il presidente sul Russiagate si fidasse delle parole di Putin e non di quelle dei suoi servizi segreti, Trump per tutta risposta aveva tolto a Brennan le credenziali per ricevere informazioni riservate. Nessuno degli ordigni è esploso, anzi, secondo l'FBI la fattura è talmente grossolana da lasciar pensare che più che colpire i bersagli voressero creare una sorta di grande polverone politico a pochi giorni dal voto di medio termine con il quale gli Stati Uniti rinnoveranno il congresso e nel quale i seggi contesi all'ultimo voto sono numerosi. Obiettivo sicuramente centrato a farne le spese per primo è stato proprio il presidente editato come il principale responsabile dell'imbarbarimento della politica in America per la sua retorica, prona all'insulto. Trump, che in un primo momento aveva deciso di moderare i toni chiedendo un ritorno dell'Unità Nazionale, su Twitter, ha immediatamente cambiato registro accusando la stampa di avere creato un clima di odio indescrivibile alimentato dalle continue notizie false. I media, ha attaccato il presidente, devono dare una ripulita al loro modo di operare subito. Dopo di noi, a otto e mezzo, gli ospiti di Lilly Gruber sono il parlamentare leghista Massimiliano Romeo, Beppe Severnini e Sebastiano Barisoni. Poi c'è Piazza Pulita e tra gli ospiti invece di Corrado Formigli ci sono Alfonso Bonafede, Gianluigi Paragone, Armando Siri, Giulio Sapelli, Francesco Boccia e anche Massimo Giletti. Ci fermiamo. Eccoci detto durante il TG del rimbalzo della borsa italiana, parliamo di quella americana in questo momento, infatti a Wall Street il Dow Jones sta riguadagnando l'1,79% e il Nasdaq addirittura il 3,14%. È tutto, Gruber, poi Formigli, ci vediamo domani sera, buonasera. Grazie a tutti.